Applausi Mi invito adesso qui vicino a me Leonardo Piccini per la premiazione per la memoria E' il numero 7 dei Vigili del Fuoco Mattia Mi invito adesso il comandante provinciale di Vigili del Fuoco di Brescia L'ingegnere Salvatore Bucco per premiare la squadra Fair Play di questo dottor Rio Sempre Memorial in da Bartoloni E in base alle indicazioni che abbiamo ricevuto dagli arbitri ieri La squadra Fair Play di questo torneo è il San Marino Rettetà Grazie mille Grazie mille Grazie mille Cosa! Cosa! Buon! Ciao! Buon olis! Buon olis! Bella, bella, bella! Bello, bello! Complimenti, dai!